La skin di Midas è stata temporaneamente bannata da Fortnite Epic Games ti prego risolvi subito questo problema Per il che è stata bannata la skin di Epic Games temporaneamente Molto semplice e naturalmente molti di voi se lo staranno chiedendo E infatti in partita appena ti andavi a switchare l'arma di Spider-Man con un'altra arma Con una corona usando la skin di Midas Andavi a perdere il 60% delle tue FPS Epic Games ti prego fixa subito questo